Buongiorno. Buongiorno a tutti. Stavo preparando giusto la colazione. Ma c'è un tempo. C'è un tempino di merda pure stamattina. Almeno ieri mattina mi sono svegliato col sole forte e poi si è annuvolato. Adesso siamo di nuovo messi così. Speriamo cambii un pochino anche perché devo caricare un po' le batterie. Con i pannelli fotovoltaici che non sono messo benissimo benissimo. Nonostante abbia la centrale nucleare anche se centrale nucleare ha bisogno di luce. 2,9 ampere stiamo caricando. Qui si all'84 per cento. 12,6 volt. Ma vediamo. Dopo aver fatto la cagatina mattutina mi devo organizzare un attimo per la giornata. dovrei lavorare un po' e visto che non ho tutta questa esagerazione di corrente. 13 volt dal pannello 1,6 ampere. Sto oscillando tra l'1,5, 1,6 fino ai 2,2,3. E' vero che non c'è sole però basta questa poca luce per caricarmi 1,5 o 2 ampere. Quindi diciamo che oggi per lavorare è meglio che usi il book. Consuma intorno ai circa 2 ampere quindi siamo sui 25 watt. Consuma così poco perché se già carico con la batteria io lo metto attaccato alla presa di corrente. Lui riesce a rimanere costante su quel consumo. Quindi se i pannelli fotovoltaici mi danno circa 2 ampere ora evito di usare il grosso che il grosso mi ciuccia sui 5,5 ampere ora e con lui invece dovrei lavorare meglio. Meglio si fa per dire perché avendo lo schermo più piccolo per fare grafica è un pochino più è un pochino più faticoso. Fuori le condizioni sono sempre queste. Abbastanza tristi. Ieri sera addirittura ho acceso un pochino il riscaldamento perché non che avessi freddo però dopo una giornata così uggiosa avevo quella sensazione un po' di umido nelle ossa. Che poi non è vero. Paranoia però c'avevo voglia di accendere il riscaldamento. L'ho messo al minimo. Mi sono guardato il film. È stata una bella seratina poi l'ho staccato prima di andare a dormire. Oggi non credo non credo di accenderlo. Come si è messi qua? Infatti era regolato sullo 0,8 kilowatt. I valori che da lui non sono così attendibili da 12,1 di batteria. 1.482 di altezza di quota mentre invece siamo 1.6. Vediamo vediamo 21 gradi. Ho capito che lui ne segna tre in più. Quindi abbiamo 18 gradi circa in camper. Che lo accendo a fare? Anche se accendendolo mi scalderei il serbatoio dell'acqua. Sono arrivato il 6. Oggi è l'8. Ho consumato circa metà serbatoio d'acqua che sono 40 litri. Avrò ancora 35 litri d'acqua più 15 nel boiler. Qua fuori c'è una fontanella dove si ricaricarne un po'. Il serbatoio quello delle nere è a meno di metà. Fortunatamente non sto cagando così tanto e la pipì la faccio in mezzo ai prati. Sto attento a lavare i piatti insomma quando proprio si riempie il lavello così almeno li lavo una volta sola. La pentolina ha anche quella diciamo quella unta anche se è unta è unta di olio di cocco quindi è tutto recuperabile. Intanto quest'olio qua non va anche se lo vedete un po' bruttino è solo perché ci ho fatto i fagiolini, le zucchine e tutto è però è ancora lo posso ancora usare. E' ora di mettersi al lavoro. L'amperaggio sale e scende. Ci tocca. terminato l'allenamento mi sono scassato una gamba tanto qualcosa devo sempre scassarmi dopo allenamento allora vediamo di che colore è questo ginocchio visto che mi è scappata la bici nonostante avessi le ginocchiere e i parastinchi. Allora diciamo che il colore è abbastanza normale domani provo a vedere un attimo che sfumatura ha preso. Allora oggi ho passato a trovarmi mio papà non mi ha fatto tanto piacere era da un po' che non lo vedevo. Ho portato un po' di sostentamenti del tipo se ne è arrivato con questi fantastici pomodori che non che non avevo. Avevo l'insalata dell'orto di mia mamma ma mi mancavano i pomodori. Poi delle mele un paio di mele. Mozzarelle così almeno mi faccio una bella ricca insalata. E poi avevo altra roba però avevo il latte che tanto io non bevo dei cetrioli che non mangio e insomma delle altre cosine. E comunque grazie papà. Mi sono appena ritirato. Sto aspettando che il boiler scaldi l'acqua per farmi una bella doccia che ne ho proprio bisogno. E poi stasera sono d'accordo con Beppe il gestore del rifugio che oggi ha preparato il burro. Il burro delle mucche che sono al pascolo qua attorno alla mia casetta. Il famoso burro grass fed cioè burro giallissimo. Mi ha detto che ha un colore che potrei spegnere la luce di notte e avere la luce da quel burro tante giallo. Non vedo l'ora di vederlo e di assaggiarlo domani mattina col mio super bulletproof. E la giornata tende al termine. La vista montagna anche di qua. Vista montagna ovunque. La doccia ora è da preparare. Guarda che roba. Anche dal bagno. Guardate che quadretti che anche del bagno. Circondato dalla natura selvaggia.